Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Innanzitutto partiamo col dire che nella giornata di mercoledì, qui in Comune, abbiamo in inaugurato lo sportello PUE, che è punto utente evoluto di IMS. Come già scritto e come già detto, è il primo punto di IMS, punto utente evoluto della Lombardia e da questo momento, quando degli utenti, dei cittadini avranno bisogno dei servizi IMS, potranno venire tranquillamente qui in Comune a Fagnanolona, negli orari che troverete sul sito internet del Comune, presso lo sportello front office per qualsiasi esigenza. Venerdì prossimo è il primo di novembre, è la festa di tutti i Santi e gli uffici pubblici e anche quelli comunali quindi sono chiusi al pubblico. Ricordo inoltre che sabato è l'ultimo sabato del mese di ottobre e quindi bisogna tirare indietro di un'ora le lancette dell'orologio nella notte tra sabato e domenica per il ritorno dell'ora solare. Gli eventi dei fini di settimana iniziamo con quello istituzionale che sarà lunedì 28 ottobre alle ore 21 in diretta via streaming o in presenza qui nella Sala Consigliare del Comune, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Mentre sabato 26 ottobre alle ore 17.30 in Sala Camino, Susi Zappa presenta il suo nuovo romanzo Armen, un faro leggendario per la rassegna Un caffè con l'autore. Sempre sabato ma alle ore 21 in Sala Consiglio per la rassegna Senza Sipario, le compagnie teatrali Maschere e GGT Tempo propongono Il dio della carneficina di Yasmina Reza. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!